Ragazzi, non vedo l'ora davvero di vedervi nelle settimane che vanno dal 14 al 18 di giugno, dal 21 al 25 di giugno e dal 30 di agosto al 3 di settembre. Saranno tre settimane ricche di giochi, di divertimento, ma soprattutto sarà ricco di calcio e di momenti intensi che passeremo insieme. Saranno delle giornate piene perché partiremo dalla mattina, mangeremo insieme e faremo tutto il pomeriggio ancora insieme e davvero saranno dei momenti unici e non vedo l'ora di vedervi. Un abbraccio a tutti e vi aspetto già dal 14 di giugno.